Una cena per gli indigenti della città su iniziativa della Juventus Club di Caltanissetta. Il club, come tu ben sai, è sempre innovativo e quindi ogni anno, togliendo le spese per un sorteggio che facciamo all'interno del nostro club per scambiarci gli auguri di Natale e delle feste, questa volta tutto il ricavato l'abbiamo dato sempre a una chiesa, ogni anno una chiesa diversa e quindi quest'anno, essendo sempre innovativi, quest'anno abbiamo voluto dare questo contributo facendo una cena con 25 persone meno ambienti che la faremo qui dentro anche per far sentire il calore di questa bellissima sala e quindi questa sera ci sarà una tavola bandita principalmente per queste persone, ci sarà pure un po' di musica per farle stare un po' tutte assieme perché crediamo e vogliamo far fare anche la prefesta come fine anno. C'è anche la Befana Bianconera. Sì, è il nostro fioro all'occhiello questo, è il nostro fioro all'occhiello perché la Befana Bianconera già da diversi anni che la facciamo è arrivata all'ottava edizione e quindi quest'anno, come tu ben sai, ogni anno sono venuti ospiti di spicco nel mondo juventino come Rambulla, come il colui quale ha denominato questo club, dopo è venuto Maxi Piso, è venuto Igor Barbazza, quello di Centro Vertini, è venuto Roberto Betteca, sono venuti tantissimi giocatori, anche se giocatori, e dopo lo sapete quando è venuto Giovinco con Gianluca Pessotto. La Juventus conta tanti tifosi da queste parti? Sì, la Sicilia è un peudo bianconero, io come referente regionale di tutti i club d'ocche della Sicilia, diciamo, mi onoro e sono grato anche a questa Juventus che mi ha dato questo incarico perché siamo nati con tre club d'ocche in Sicilia, ora siamo 38, quindi significa che abbiamo lavorato bene, ho lavorato bene e quindi spero e mi auguro che aumentano sempre di più questi club in Sicilia, anche perché i numeri ora per fare un club sono saliti, è cambiato anche l'organigramma con il presidente onorario del centro coordinamento che è Mariela Scirea, che sa come devono stare bene le cose al proprio posto. Dopo la cosa più bella è quella che ringrazio, che i 350 soci del club di Caltanissetta, che saluto e faccio gli auguri a tutti. Per concludere, dove va questa Juventus? Dove va? Abbiamo questa ferita aperta per l'uscita della Champions, però lo dico sempre che è una coppa che per noi è maledetta e quindi noi usciamo ben volentieri. Ora abbiamo l'Europa League che è la finale separata a Torino, ma spero e mi auguro che intanto vincere con Scudetto, che è quello di tre anni vinti di seguito, che è fondamentale ed è una cosa che non si è mai realizzata e dopo speriamo anche nella Coppa Italia e nell'Europa League. Speriamo bene, io auguro che la Juventus vinga sempre, quindi perché non soffriamo di vertigine, è una squadra che deve stare sempre in testa e ne approfitto pure per fare gli auguri a tutti i nisseni juventini, a tutti i nisseni e principalmente tutti i juventini doc del mondo.